Diamo il benvenuto a Biagio Mannino, eccolo qua, buongiorno. Buongiorno Graziano, buongiorno, come va, come stai? Bene, 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 ti sento sveglio, ti sento pronto per raccontare tante cose importanti. Ma certamente. Abbiamo lasciato ieri un tema che mi interessava tanto e so che interessa anche a te perché noi siamo appassionati di tutto quello che accade nello spazio e insomma pare ci sia stata un'esplosione pazzesca, è vero? C'è stata un'esplosione mai vista, mai registrata prima, un'esplosione che ha prodotto una palla di fuoco grande cento volte il sistema solare. Un qualche cosa che ovviamente ci porta a vedere con straordinario stupore quello che accade ovviamente nell'universo e ci porta anche a comprendere come poi di fatto siamo molto molto piccoli nel contesto e i nostri problemi diventano sostanzialmente qualche cosa di insignificante nel discorso dell'armonia dell'universo. Un'esplosione come detto che ha prodotto questa palla di fuoco di grande come detto cento volte il sistema solare, un qualche cosa mai registrato precedentemente ma soprattutto un qualche cosa di inspiegabile perché poi di fatto l'osservazione dell'universo porta ad avere delle valutazioni anche statistiche di quello che accade e le spiegazioni non si riescono a dare a tutto. Il team che sta studiando questo fenomeno ha collocato il punto in questione molto molto lontano, parliamo di una distanza di 8 miliardi di anni luce. Quindi un qualche cosa anche qui che ci fa sostanzialmente girare la testa a pensare che tutto questo è sostanzialmente 8 miliardi di anni fa. Un'esplosione che sembrerebbe essere iniziata tre anni prima e che in questo momento sta continuando a produrre questa forte energia. Il team che viene portato avanti da Weizmann di fatto analizza questi aspetti e di fronte anche alla non capacità di riuscire a dare un'effettiva disposta a che cosa stia effettivamente succedendo e di fatto anche aprendo la strada a tantissime valutazioni, soprattutto una di queste valutazioni diventa molto interessante, ovvero che la scienza spesso non riesce a dare delle risposte e soprattutto non è sempre esatta. Delle valutazioni di non secondaria importanza dette da Weizmann anche perché poi sostanzialmente questo si colloca in una posizione oggi dove la scienza viene più vista come una fede che è appunto come un percorso di studio e di analisi. L'astronomia, le valutazioni in questo senso ci fanno volare lontano, Graziano come tu dicevi a noi piace molto andare così a guardare nello spazio, forse proprio anche per uscire un po' da quelle che sono invece le tristezze terrestri. Hai ragione, hai ragione Biagio. È vero, a proposito di tristezze terrestri, Zelensky in Inghilterra. Zelensky in Inghilterra, questo tour che Zelensky sta facendo in Europa dà più un senso di andare a cercare di trovare degli aiuti ulteriori perché poi in definitiva anche da questo viaggio nel Regno Unito, l'incontro con il primo ministro Rigi Sumak. Sì, tanti abbracci, tante cerimonialità se vogliamo, tante frasi importanti. Rigi Sumak ha detto a Zelensky sostanzialmente che il popolo ucraino rappresenta per il Regno Unito fonte di grande ispirazione, poi bisognerebbe capire che cosa significhi fonte di grande ispirazione, ma in ogni caso diciamo che dal punto di vista dei toni e di tutto ciò che circonda normalmente questi appuntamenti c'è stata una vicinanza assolutamente forte. lo stesso Zelensky indirizzandosi a Rigi Sumak lo ha definito il suo grande amico, ma poi in sostanza che cosa ha raccolto Zelensky? Zelensky ha raccolto promesse, ecco questo lo dobbiamo sottolineare da parte di Rigi Sumak che la fornitura di missili, anche finalizzati soprattutto alla difesa, perché poi il grande problema che Zelensky si trova ad avere è che lui chiede missili che possano essere di lunga gittata e questo invece preoccupa molto chi in questo momento fa parte del blocco occidentale, perché i missili di lunga gittata implicherebbero un coinvolgimento sempre più ampio in una guerra dovendo appunto andare a toccare il contesto russo in particolare. ma Zelensky ritorna sempre sul punto fondamentale ovviamente nella gestione di una guerra che è quello legato ovviamente alla funzione che ha l'aeronautica e quindi chiede jet, gli F-16 in particolare. La risposta di Rigi Sumak in questa direzione è stata particolarmente così, ha voluto cercare di aggirare la questione degli aerei, anche perché sostiene Sumak che gli F-16 il Regno Unito non li utilizza più, utilizza aerei più sofisticati, poi occorre preparare i piloti e da qui la disponibilità del Regno Unito di addestrare i piloti, cosa che tra parentesi è stata già iniziata negli Stati Uniti, ma il numero dei piloti ucraini addestrati negli Stati Uniti è decisamente piccolo, si parla di due piloti, quindi è una situazione estremamente particolare, Sumak che comunque ha garantito di partecipare al Consiglio d'Europa, di partecipare al prossimo G7, di cercare di portare anche agli altri componenti del blocco occidentale le esigenze dell'Ucraina, come se gli altri componenti del blocco occidentale non conoscessero poi quali siano le effettive esigenze dell'Ucraina. Come dire, cercare di convincere anche gli altri a contribuire maggiormente. L'impressione è che questo incontro in realtà non abbia prodotto un granché per Zelensky e che da parte del Regno Unito e di Rigi Sumak in particolare si stia tentando di prendere tempo. La fornitura, come detto, di missili a lunga cittata, la fornitura soprattutto di aerei e di fatto rappresenterebbe un'esposizione forte, soprattutto anche in un momento come abbiamo evidenziato ieri quando sottolineavamo che c'è un forte impoverimento invece del Regno Unito. Come dire, ci sono questi meccanismi dell'ambito della comunicazione che caratterizza il Regno Unito in questo momento storico, che mostra i fasti di un contesto legato all'incoronazione, che mostra un Regno Unito che in apparenza sembra essere determinante ancora in un contesto internazionale, ma che poi al suo interno vive quelle situazioni drammatiche. Lo ricordiamo tra il 2022 e il 2023 sono stati distribuiti 3 milioni di pacchi legati all'emergenza alimentare, una cosa decisamente difficile da poter appunto accettare in un contesto di un paese come il Regno Unito, dove appunto la carenza alimentare diventa un qualche cosa di estremamente preoccupante, perché stiamo parlando dei beni primari, dei beni essenziali alla vita. Questo significa che l'impoverimento del Regno Unito è forte, ma non possiamo dimenticare anche l'assignalazione da parte degli Stati Uniti recentemente, che invitavano fortemente il Regno Unito a modernizzare il proprio esercito. Quindi non più un esercito, come dire, diciamo all'altezza di quell'esercito del Regno Unito del passato. Si sostenevano analisti degli Stati Uniti che nel contesto delle strumentazioni, degli armamenti, dei mezzi che l'esercito britannico si trova ad avere, si parla di mezzi che hanno anche più di 60 anni, quindi è una situazione particolare. Il Regno Unito si trova ad affrontare quel passaggio, come abbiamo detto tante volte, quel 2016, quel 23 giugno, la Brexit ha messo in evidenza tante problematiche strutturali del Regno Unito e che in questo momento si vedono e si vivono soprattutto in maniera importante. Un'esposizione in questa guerra sta ovviamente impoverendo tutti e lo stanno dimostrando ovviamente i dati nel contesto del Regno Unito, alcune realtà più di altre. Londra, il Galles, dove il 5% della popolazione del Galles ha fatto ricorso all'aiuto alimentare, quindi aspetti di non secondaria importanza. Quello che è importante invece è quel discorso che non inizia, ovvero il dialogo nella direzione della pace, perché prima di tutto dobbiamo partire da un principio, le guerre non devono iniziare e se le guerre iniziano devono terminare nel più breve tempo possibile, invece qui no, perché le continue forniture di armi poi alla fine non fanno nient'altro che prolungare questa agonia. L'avevamo detto del resto, giustamente. Allora, senti, abbiamo ancora un po' di tempo, parliamo di elezioni, un aggiornamento dalla Turchia, se possibile, ce n'è? Aggiornamento della Turchia importante perché poi in definitiva i risultati ormai confermano, si va al ballottaggio, il ballottaggio tra Etaip Erdogan e Kemal Kilidaroglu, il ballottaggio previsto per il 28 maggio e da qui saranno dei giorni estremamente intensi. Erdogan è presente al vertice della politica turca ormai da 20 anni. Quando si parla di Turchia, sostanzialmente ci si immagina la figura di Taip Erdogan. Ma è accettato vero che la figura di Kemal Kilidaroglu di fatto rappresenta quel qualche cosa che mai come negli ultimi 20 anni potrebbe rappresentare invece un problema per Erdogan. Un calo, se vogliamo, di consensi in questa sfida così importante che ha visto il 90% degli aventi diritto al voto partecipare, un aspetto non secondario di come vengono vissute in modo intenso queste elezioni. Kilidaroglu è sostanzialmente l'espressione delle opposizioni che si sono unite pur di riuscire a sconfiggere la figura di Erdogan, cosa che non è riuscita però in ambito parlamentare, dobbiamo sottolinearlo perché le forze che sostengono Erdogan hanno vinto le elezioni in Parlamento. Un sistema elettorale particolare che limita fortemente le forze piccole perché innanzitutto dobbiamo sottolineare che i cittadini turchi non votano per i deputati, per i candidati, ma votano per i partiti e la soglia di sbarramento è del 7%. 600 componenti nella Camera del Parlamento Turco e in questo momento la maggioranza è stata ottenuta appunto come detto dalle forze di Erdogan. Ma contemporaneamente la sfida presidenziale invece sembra essere lì, dovesse vincere Erdogan ovviamente la continuità sarebbe garantita, questa parola che rientra nel posto 2020 sempre più in maniera affermata, dovesse vincere Kilidaroglu ebbene ci sarebbe un vero e proprio cambiamento, ma anche un problema proprio perché è legato a un Parlamento sostanzialmente di colore e diverso. Insomma saranno giorni particolarmente intensi e in nome di queste elezioni il 28 maggio potrebbe rappresentare come detto o la continuità o la grande svolta. Ma Graziano ci sono state anche le elezioni lo stesso giorno anche in Thailandia. Andiamo quindi in Asia. Un aspetto di non secondaria importanza, elezioni importanti perché anche lì hanno vinto i partiti di tradizionale opposizione e di opposizione a chi sostanzialmente ha sempre governato nel contesto della Thailandia negli ultimi anni perché quella vicinanza tra la monarchia e il mondo militare in Thailandia ha prodotto nel corso degli ultimi vent'anni anche delle situazioni di colpi di Stato all'interno della stessa Thailandia. La volontà delle opposizioni vincitrici delle elezioni necessariamente dovranno coalizzarsi e quella di andare nella direzione di una riforma della Costituzione e di una limitazione della presenza dei militari nel contesto della politica tailandese. E da qui i problemi. I problemi perché emergeranno? Al momento ovviamente la popolazione si è espressa in questa direzione anche di forte partecipazione. L'80% dei cittadini italianesi ha partecipato al voto e i voti dei giovani sono andati proprio nei confronti dei partiti progressisti che hanno vinto le elezioni. Ma se al momento si prevede che inizierà questo percorso che vedrà un governo di ispirazione progressista delle forze che hanno vinto queste elezioni, dopo i problemi, nel momento in cui si comincerà a parlare di revisione della Costituzione e di limitazione della presenza dei militari nel contesto della politica tailandese, probabilmente qualche problema comincerà ad apparire. Ricordiamo che la Tailandia ha visto negli ultimi vent'anni ben due colpi di Stato e contemporaneamente la stanchezza dei cittadini tailandesi si fa vedere proprio perché chiedono una continuità invece, una stabilità politica e soprattutto un inizio di una direzione di cambiamento. Beh, indubbiamente ci è dato un panorama molto ampio di quello che è la situazione attuale, soprattutto sul fronte delle elezioni. Credo che per oggi sia tutto, io ti ringrazio Biagio, appuntamento ovviamente che si rinnova domani. Grazie a te, ciao Graziano.